L'Imoco Connelliano vola in semifinale scudetto. Al palazzetto dello sport di Scandici le Pantera hanno bissato senza problemi il risultato di gara 1 contro le avversarie del Bisonte Firenze. Un 3-0 senza appello, costruito da una squadra praticamente perfetta in tutti i reparti. Le Trevigiane partono subito forte nel primo set, lasciando pochissimo spazio alle Toscane e chiudendo sul 13-25. Il Bisonte rialza la testa all'inizio della seconda frazione, trascinando le ragazze di Santarelli fino al 19 pari, ma sul finale la stanchezza si fa sentire nelle file delle Toscane. Un errore della ex Terri Enweonwu spiana la via a una serie di palle vincenti dell'Imoco, che chiude sul 20-25 col muro di Gichel. Non c'è storia nemmeno nel terzo set, nonostante il buon inizio di Firenze, le bordate della solita strepitosa Paola Egon e di un ottimo McKenzie Adams rimettono subito davanti l'Imoco, che si mantiene sempre ad almeno sei punti di distanza dalle avversarie, fino al 17-25 finale. Ora la semifinale contro la vincente di Scandicci Busto, che stasera si sfideranno in gara 2. Ioanna Bološ è pronta. Sarà una bella sfida, una tosta semifinale, quindi aspettiamo, adesso abbiamo un po' tempo per riposo e saremo pronte.